Sono Gianmari Migliaccio, qui sopra vedete già il titolo della giornata, sabato sera, spero che insomma non abbiate interrotto qualche barbecue all'aperto con i vostri amici, però insomma se siete qui vuol dire che avete pensato più importante essere con me stasera. Non parleremo di allenamento questa sera, non parleremo di nutrizione, non parleremo di valutazione, non parleremo neanche di virus, ma parleremo di qualcosa più interessante che magari riguarda non chi si allena, ma i loro consulenti, i loro professionisti eccetera, ovvero i preparatori, i personal trainer, i nutrizionisti, i medici, i farmacisti, i fisioterapisti, tutti coloro che magari hanno un progetto ovviamente di lavoro e in questi giorni si sono resi conto che la comunicazione online non è che sia come dire utile, è necessario, è fondamentale proprio chi aveva già instaurato un progetto di comunicazione online adesso magari sta continuando ad avere i rapporti con i clienti. Allora piuttosto che parlare di cose diciamo tra di noi, in queste live io cerco sempre di coinvolgere dei professionisti veri, persone che veramente hanno qualcosa da dire e da dare, in modo da fare una discussione ad alto livello. Quindi il professionista di oggi che abbiamo scelto, lo vedete già nel nome, è stato già presentato a tutte le prome, Rudy Bandiera. Ciao Rudy! Ciao a tutti! Ciao Gian Mario, grazie mille! Allora, chi è Rudy Bandiera? È una persona molto nota in Italia, andate a cercarlo perché c'è dappertutto, la sua pagina Facebook, su Instagram dove ci siamo sentiti direttamente e lui fa tanti video sul divano, che oggi credo non sei sul divano. No, oggi è sotto scala oggi! Sotto scala, benissimo! E proprio spiega quelle cose utili, quando uno deve fare un progetto di comunicazione, come lo deve fare, cosa deve evitare di sbagliare, cosa deve mettere in conto, soprattutto poi cosa dire al suo target di riferimento, sono tutte quelle cose che sono l'ABC del come fare per essere bravi. Allora, domanda subito per Rudy, così andiamo al sodo della situazione. Quando si dice, diciamo, comunicare online, tramite social e così via, se un consulente, un libero professionista, che magari è il target di oggi, non abbiamo aziende, abbiamo liberi professionisti, come ho detto prima, ne sono le professioni, da subito perché lo dovrebbero fare? Al di là del virus, adesso lo devono fare, ma finita questa fase, perché dovrebbero mantenere anche questo livello? Ma secondo me siamo in un periodo in cui è assolutamente impensabile non fare comunicazione online, e sempre di più sarà così. Basta guardare, aprire un Google Maps per capirci, su Google Maps ci sono tutte le attività che ci circondano, attività fisiche che ci circondano, e i professionisti che ci circondano, dall'osteopata al nutrizionista, per capirci. Quindi è evidente che, seppur partendo in punta di piedi, per esempio, non sto dicendo che uno debba utilizzare tutti i social che ci sono, tutti i canali che ci sono, fare video da subito, dirette, eccetera. Ma seppur in punta di piedi è necessario individuare quali sono i canali che potrebbero essere più utili a noi, perché sono frequentati dal nostro pubblico potenziale o clienti potenziali, e provare ad iniziare a presidiarli. Questi canali possono essere più svariati. Se noi stiamo parlando con un pubblico di teenager, probabilmente non andremo su LinkedIn. Se noi stiamo parlando con un pubblico di professionisti 40-50 anni, non andremo su TikTok. E quindi ci sono moltissime cose da valutare. La prima, in assoluto, è a chi stiamo parlando. Una volta che noi abbiamo... No, infatti, questa cosa, ogni tanto io ti blocco, faccio come Lily Gruber. Questo è un errore comunissimo, devo dire che molte volte uno pensa a tutto, uno dice, guarda, ho comprato il ring, no? Ho comprato il microfono, ho comprato la telecamera, ok, sono pronto, faccio i video. E la prima cosa che fa? Dice una cosa che piace a lui. Si dimentica che dall'altra parte c'è qualcuno che probabilmente non è così tanto interessato a questo. E questo molte volte capita spesso. Uno, io te lo dico, anche io sono utente che guardo magari i video dei personal trainer, dei nutrizionisti. C'è tanta gente che con tanta buona volontà fa dei video bellissimi, il problema è che sono argomenti che non interessano. E anche a livello di comunicazione dicono paroloni, cose, insomma, per far vedere che sono tanto bravi, però poi si lamentano, dice, però 15-20 visualizzazioni, quindi deve essere che il canale non funziona. L'internet non fa far business, i social non funzionano, questo qui è un grande classico. Hai perfettamente ragione, cioè, spesso cosa succede? Che, ma anche l'imprenditore, dal manager al libero professionista, quando si parla, si fa un video o si fa comunicazione online, si tende sempre a farla per i propri colleghi o competitor. Perché se mi vedono chissà cosa pensano, perché potrebbero pensare che io dico delle castate, perché se parlo in maniera semplice poi risulto poco professionale, cosa che non è assolutamente vera. Cioè, il parlare in maniera semplice non significa parlare in maniera superficiale. Quando noi parliamo e facciamo comunicazione abbiamo un target dall'altra parte, cioè degli individui che in qualche modo vogliono informazioni da noi, ma se vogliono informazioni da noi, vogliono informazioni che siano utili e comprensibili. Quindi, spesso cosa vediamo? Vediamo il professionista che fa il primo video dicendo, io sono bravissimo, ho tre lauree, sono il meno caro di tutti, perché tutta una serie di cose che non gliene frega niente a nessuno. Cioè, tu devi dare delle informazioni che risolvano dei problemi, non far vedere agli altri quanto sei figo. Questo è, secondo me, la prima cosa che tutti noi dobbiamo imparare. Mi fai ridere perché mi ricorda, mi viene a mente sempre il solito video che gira sempre, virale, che in questi giorni è di età, però del famoso colonnello dell'aeronautica che mentre aveva finito il suo meteo diceva, perché dall'alto delle mie due lauree con l'ode e quindi noi siamo i migliori. No, incredibile, fantastico. Lo rimetterò sul mio profilo, perché ogni tanto è giusto non dimenticare. Quindi molte volte gli errori si fanno normali. Però è una cosa che, devo dire, è molto... Forse è il problema, perlomeno per le persone che frequento io, è la remora che tutti hanno. Cioè, uno dice, eh sì, ma io sai, io sono che so avvocato, sono cose... Eh, non è che mi posso mettere, perché poi magari i commenti, gli haters... E poi non posso semplificare, i termini sono quelli. Allora, tutte le volte dico, guarda, io quando ho iniziato il progetto di divulgazione tre anni fa, ho usato una frase di Albert Einstein che diceva, non hai veramente capito qualcosa finché non sarai in grado di spiegarla a tua nonna. Sì, è vero. Non l'ho detto io, l'ha detto lui. Allora, se noi siamo veramente... Anche perché tutte le volte è sempre così, inversamente proporzionale. Uno meno ne sa e più usa i paroloni. Se uno cerca di spiegarlo in modo semplice, perché quella materia ce l'ha proprio nel sangue. Allora, questo è il concetto. Tu devi spiegare al tuo target, non ai tuoi colleghi. Ma frega, tenete i tuoi colleghi, lasciali stare. E questa è una cosa... Ti capita spesso che magari persone non... Siano lì pronte, però dice, eh sai, non vorrei che poi sbaglio la parola, i colleghi dicono. È una cosa comunissima. Poi, tra l'altro, cioè, è incredibile, ragazzi, perché se io faccio una comunicazione tecnica, io formo i competitor, in qualche modo, no? O mi metto in confronto con i competitor senza riuscire a raggiungere i miei potenziali clienti. C'è un'analisi interessante sul mondo degli influencer, perché se vuoi poi dopo ne possiamo anche parlare. In pratica c'è una curva che viene definita curva di adozione delle idee di Rogers, di Seth Godin, o curva di adozione delle tecnologie di Rogers. È una campana gaussiana, no? All'inizio di questa curva di adozione, cioè, i primi che adottano una nuova idea o una nuova tecnologia, sono i tecnici. Ma i tecnici non sono quelli che riescono a spiegare alla massa che rende questa idea o questa tecnologia popolare. Perché sono troppo tecnici. Noi non dobbiamo essere tecnici. Se vogliamo usare questi mezzi per comunicare e fare business, dobbiamo essere divulgativi. Ripeto, semplici, non banali, non superficiali. Questa è una parola importante. Adesso ti voglio mettere subito alla prova, così insomma, entriamo nel vivo. E proprio iniziamo da questa cosa, quando l'argomento è difficile, mettiamola così, perché magari abbiamo dei consulenti che trattano una materia difficile, no? Di quelle che poi alla fine hai bisogno di strumenti, hai bisogno di fare valutazione, hai bisogno di metterli su pedane, misurazioni oggettive, complicate. Che però in questa fase dicono, porca miseria, però anch'io potrei. Allora invitiamo in chat con noi al volo per la domanda un dottore di ricerca che si chiama Luca Russo, eccolo qui con noi. Ciao Luca. Luca Russo è dottore di ricerca nell'area della biomeccanica, quindi fa valutazioni particolari, attente, precise, ha bisogno di pedane di forza, ha bisogno di attrezzi anche complicati, ha bisogno di avere la persona davanti. Per adesso lui, io, tu e tanti altri, abbiamo il nostro utente a distanza. Allora, Luca ha una domanda per te. Prego. Non c'è audio, Luca. Aspetta un attimo. Si è attivato tu? Ecco, ora mi sentite. Ciao, ciao Rudy, piacere. Ciao Gian Mario, grazie per l'invito. Allora, sì, come ti ha anticipato Gian Mario, ecco, io mi occupo di postura, di analisi del movimento e quindi... Spero di essere detto bene, spero di essere detto, vorrei essere castiato da te adesso in diretta. Assolutamente, no, poi ho scoperto che stasera non sei sul divano, quindi sicuramente sei seduto più comodo e più ergonomico. Ecco, ergonomico l'ha dovuta dire, no? Ma che vuol dire? Sì, ecco, ecco, io sono quello che usa le parole difficili, come diceva prima Gian Mario, però evidentemente non ce la faccio a non farlo. Comunque, ti chiedo, Rudy, ecco, la mia difficoltà è proprio questa. Io faccio questa tipologia di attività dove devo incontrare le persone e devo vederle, devo essere presente. Che tipologia di progetto online può fare un professionista come me, in un momento come questo, dove viaggiare non è possibile, visto che io giro l'Italia per fare queste tipologie di valutazioni. Anche per capire, lui è modesto, non lo dice, lui è consulente della squadra russa olimpica del tiro che si allenano a Cipro, quindi si incontravano lì, insomma lui ogni mese va a fare le valutazioni, adesso chiaramente anche con la cosa tutto bloccato, eccetera, e poi invece come professione ha questo. Quindi parliamo dal punto di vista professionale, cioè come si potrebbe fare per allargare il tuo bacino di clienti che non siano quelli che già hai, giusto? Non per dare un aiuto a quelli che già hai, perché questo qua è una cosa diversa. Sì, quelli che già ho in realtà sono persone che io devo controllare e monitorare come stanno andando, quindi potrei riuscire ad avere con loro uno scambio online. Infatti sì, sarebbero quelli nuovi o quantomeno mantenere. Perché sappiamo che per esempio, vabbè inutile che ve lo dica io, ma ci sono strumenti straordinari come Facebook, come Google Meet, come Skype, ce ne sono tantissimi di strumenti, ma ragazzi Whatsapp, Whatsapp stiamo scoprendo le videochiamate in questi giorni, lo sappiamo tutti che più o meno facciamo gli aperitivi in videochiamate più o meno tutti ed è una roba straordinaria, ma questo è un discorso. Un altro discorso è quando si ha un'attività prettamente fisica come la tua, come può essere un'attività artistica, come può essere una qualunque attività sportiva, ma non solo necessariamente sportiva. Penso sempre a un massaggiatore, a un fisiatra, a qualcuno che abbia delle attività che deve fare con le mani. Allora, io dico sempre questo. Che cosa fai tu di mestiere? Tu di mestiere risolvi problemi. Risolvi problemi che possono essere posturali, oppure suppongo non solo, anche articolari, non lo so come dire. Sì, 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 mettili nella parola posturali, va benissimo. Quindi raccontare le tue esperienze e il tuo know-how nella risoluzione dei problemi è il primo passo di un'attività che viene definita di inbound marketing. Ti spiego cosa vuol dire molto, molto, molto velocemente. Noi siamo abituati ad utilizzare attività che vengono definite push, cioè andiamo a prendere e a cercare i nostri clienti in giro con una rete commerciale, oppure con il passaparola, oppure con la pubblicità, giusto? Sì. E questa è noi che usciamo fuori per andare a portare dentro i clienti. L'attività di inbound, dell'esatto opposto, generare del contenuto che sia utile e funzionale a un target di persone che stanno cercando noi perché hanno un determinato problema. Cioè stanno cercando qualcuno che risolve il problema. Quindi noi non dobbiamo essere quelli che escono per cercare clienti, ma dobbiamo essere il luogo, il professionista, l'individuo che viene trovato perché i clienti ci stanno cercando. Quindi queste attività si possono fare in due modi. Uno è con un sito web, molto semplicemente. Sito web si fa un'attività che viene definita SEO, Search Engine Optimization, cioè si ottimizza il sito per farsi di essere trovati. Quindi se uno cerca ho mal di schiena, come lo risolvo? Trova te, lo sto qui semplificando. E tutta l'attività sui social in ottica di informazione. Cioè su Facebook, io non devo dire sono più bravo, sono più bello, i servizi migliori, ma si deve raccontare, su Facebook o su social più idoneo, ma si deve raccontare i problemi che sono stati in grado di risolverli e come li ho risolti. Qualcuno potrebbe pensare ma così io formo la concorrenza. No, tu così ti stai formando una community, non una concorrenza. Tu stai formando persone che si fidano di te perché tu dimostri che sai fare quello che racconti di fare. Ecco, c'è il modo, scusa se intervengo, c'è il modo a questo punto quando passi diciamo da uno a tanti, a uno ai giusti, mettiamola così, cioè a quel punto profili e crei una sorta di community in che modo? O se lo consigli o se non lo consigli? Ecco, perché nel suo caso magari potrebbe essere utile. Le community possono essere di tanti tipi, possono essere aperte o chiuse sostanzialmente, diciamo, cioè mi spiego, se io sono seguito da 100 persone posso considerarla la community di persone che mi seguono, anche se non le ho chiuse all'interno di un luogo né fisico né virtuale. E quindi se tu cominci a scrivere, ma è un po' quello che ha fatto Gian Mario, quello che ho fatto io nel mio settore, un po' quello che fanno i professionisti di un certo tipo. Se tu cominci a dare informazioni utili tutti i giorni della tua vita, sul social giusto, utile alle persone che ti leggono, ti troverai ad avere un pubblico di carotaggio perfetto su quello che fai tu. Quindi il discorso degli haters e tutto il resto è molto relativo perché non gliene frega niente di venire ad attaccare te alla gente se non sono interessati al tuo settore e se sono interessati al tuo settore cercano te come professionista. Quindi io dico sempre, c'è una sola ricetta per fare una strategia di social media marketing efficace, una sola, produrre tanto contenuto tutti i giorni per tanto tempo utile. È difficilissimo. Come fai a valutare l'utilità? Come lo puoi monitorare? Oggettivamente come puoi misurare una cosa che a quel punto è veramente utile. Allora, secondo me l'utilità non è misurabile, è misurabile il risultato che ottiene la comunicazione che può essere considerata tale. Per esempio, se io faccio un lavoro come il vostro, un lavoro come Luca per capirci, posso raccontare i casi che ho risolto, come li ho risolti, in quanto tempo. Quindi è utile alle persone che hanno lo stesso tipo di patologie, posso dire, di problematiche, eccetera, esatto. Quindi non è che io sono utile in senso assoluto, sono utile in senso molto verticale. È la verticalità di contenuto, il concetto di verticalità. Mi spiego. Se io parlo solo, faccio un esempio esagerato, se parlo solo di cravate sui social network, al 98% delle persone non gliene fregherà assolutamente niente delle cravate, ma c'è un 2% di persone che individuerà me come opinion leader delle cravate. Quindi è questo che bisogna fare, parlare di quello che si fa, del proprio lavoro, come si sviluppa e dare soluzioni a problemi che abbiamo incontrato. Luca? La domanda sull'utilità l'avrei fatta poi io, quindi ti ringrazio Gianmario. Rodi, un'altra domanda. Ti chiedo, a questo punto hai parlato della costanza della pubblicazione. Ti faccio un esempio di come mi sto comportando ultimamente e ti chiedo se può essere una buona idea o meno. Sto sviluppando in queste settimane, ormai da diverso tempo, dei post sequenziali che poi dopodiché vengono racchiusi all'interno del sito internet in un articoletto, che viene poi dopodiché nuovamente ripubblicizzato. Quindi l'articolo magari vedo che va un po' meglio su LinkedIn perché ci sono professionisti e che vogliono queste informazioni, un post con fotografia ad esempio potrebbe andare molto meglio su Facebook. Quindi condividi sui social, condividi il link? Assolutamente, assolutamente. Poi condivido il link. Su Facebook, faccio un esempio, sulla mia pagina creo il post con l'immagine che racchiude quel tipo di problema, creo una descrizione più o meno lunga che spiega l'immagine e che dà informazioni sul messaggio che voglio passare e questi post, quindi due, tre post uno dopo l'altro poi, le racchiude in un articolo a fine settimana che viene ripubblicizzato. Scusami, che viene ripubblicato. Questa situazione, questa tipologia di scelta può essere intelligente secondo te oppure è meglio dare contenuti sempre diversi anziché in catena. Allora io mi permetto di dare un consiglio, non a te, ma in senso generale. C'è una cosa, un errore che secondo me tendiamo a fare un po' tutti e capisco perfettamente il motivo per cui lo facciamo, ovvero la condivisione dei link dal nostro blog. Cioè noi ragioniamo così. Sto semplificando, cercate di capirmi per, lo so che non tutti ragioniamo nello stesso modo, ma voglio farmi capire perfettamente. No, ma io mi piace perché tu devi dire a tutti gli errori più comuni, proprio per evitare che adesso tutti riniziano, ma riniziano adesso e fanno gli errori che da sei anni non si fanno più. Così ci dovrebbero fare questo, non farlo. Allora, spero, quelli del Regno Unito, grazie alla nostra esperienza, chissà, ma... Noi abbiamo un blog o un sito web, no? E quindi quello che vogliamo è che la gente venga sul nostro sito web. Perché? Perché il sito web è il luogo della conversione. Cioè quando arriva qualcuno lo possiamo convertire da utente, da lettore, in cliente, contatto, ci dà la mail, ci dà il numero di telefono. È lì che avviene quella magia di contatto, no? Sul nostro sito, generalmente. Poi avviene tantissimo anche sui social, ma rimaniamo sul sito. Quindi cosa tendiamo a fare? Prendiamo i nostri articoli del sito, del blog, quello che abbiamo, e li condividiamo sui social, per far sì che generino traffico verso il nostro sito. Ecco, questo ai social non piace. È una cosa che i social... ragioniamo per un attimo come se fossimo Mark Zuckerberg. Io sono Mark Zuckerberg, ho due miliardi di utenti su Facebook e vi ho dato Facebook gratis. Se c'è una cosa che non voglio è che me li portiate fuori. Io non voglio che me li portiate fuori, voglio che rimangano lì. Più tempo rimangano lì, più pubblicità vedono. Più pubblicità vedono, più io mi arricchisco e i miei investitori sono felici. Quindi una cosa che non dobbiamo fare è usare i social come ponte per portare traffico sui nostri siti. Non è che non... Ho notato che però Zuckerberg certe volte dice, ok, però se mi paghi... Ecco, bravo, stavo dicendo. Sto dicendo, vale quello che viene definita visibilità organica. Organica cosa vuol dire? Che c'è un algoritmo che quando tu gli metti dentro qualcosa lo valuta, guarda se gli piace o no e in base a quanto gli piace lo mostra a top persone. Diciamo che se noi abbiamo, per ipotesi, 100 iscritti alla pagina, mediamente le persone che vedono i nostri contenuti vanno dal 2 al 4%, pochissime. Tutte le altre non lo vedono. È l'algoritmo che decide quanto deve essere visto un contenuto. Quindi se noi mettiamo dentro dei link, per capirci, o anche delle parole chiave che all'algoritmo non piacciono molto, come parole che riguardano le malattie... YouTube te lo banna, cioè... Esatto, ma anche LinkedIn, anche Facebook funzionano così. Hanno delle blacklist di keyword, cioè delle liste nere di parole che non possono essere utilizzate. Qual è la fregatura? È che non te lo dicono. Non ti dicono, no, guarda questo a non usarlo. Quindi la tua strategia, per quello che mi riguarda, può andar bene nella misura in cui tu diluisci i link che vai a inserire all'interno dei social con altri contenuti che non siano link. Quindi, io dico sempre, su 5 contenuti che fai, 4 devono essere puramente informativi o di intrattenimento, tra virgolette, dipende da quello che fai, e uno deve essere quello per convertire. Quindi, i contenuti che fai devono essere per creare community e generare fiducia. Quando hai generato questo, metti il link per portare il tuo sito e convertire. Perfetto. È stato chiaro. Ci siamo, Luca. Allora, mi raccomando, metti in azione tutto, fai le cose, quindi domani mattina, poi Rudy darà uno sguardo, e poi, insomma, in cambio a merce, li farei la postura appena vi potrete incontrare. Assolutamente. Ben volentieri, ben volentieri. Vediamo un attimo il divano. Luca Russo, c'è il suo dominio, è lucarusso.com, giusto o sbaglio? dotlucarusso.com dotlucarusso.com E proprio ero occupato, Luca Russo. Vabbè, figurati. Magino. Dovevi pensarci prima, troppo tecnologico. Assolutamente. Bene, grazie, grazie Luca. Grazie mille a voi e buona serata. Continuo ad ascoltarvi. Perfetto. Allora, prima di passare alla prossima domanda, ti volevo dire, hai parlato prima di algoritmi, che è una cosa importante, perché poi molte volte capita l'errore, devo dire, lo fanno in tanti, molto così ingenuo, di creare, siccome la pagina ha una reach, una propagazione organica, senza pagare più bassa rispetto al profilo personale, qualcuno pensa un po', dice, vabbè, ma io me lo faccio sul mio profilo personale, aggiungo le mita, e così li frego. Che succede in questi casi? Cioè, a parte che a me quelli che dicono, ma se io faccio così non li frego, ragazzi, allora, se abbiamo, perché hai ragionissimo, Gian Mario, quello che dice è verissimo, ma se abbiamo un'azienda, noi stiamo in questo momento in diretta, su una piattaforma di un'azienda che fattura qualcosa come 55 miliardi di dollari l'anno, tutto basato su un algoritmo, non possiamo fregarli, non c'è modo di dire, ma se io clicco sulle mie stesse pubblicità, prendo i soldi? No. Queste cose non funzionano. Allora, detto questo, ci sono delle regole di policy in Facebook, che sono molto chiare. Un'attività di business, di qualunque tipo, non può essere fatta su un profilo personale. Ora, ragazzi, prendetela come, è una policy, non è una legge, ok? È una policy, in quanto tale è relativamente elastica, e soprattutto se nessuno si accorge, tra virgolette, di quello che succede, si può fare più o meno tutto. Però io vedo tantissime volte aziende che sono l'Elettrotecnica Martinelli, che apre un profilo che si chiama l'Elettrotecnica Martinelli. Ecco, questo non si può fare per diversi motivi. Il primo è un motivo di policy, il secondo è il motivo che se qualcuno segnala quel profilo, Facebook lo fa chiudere, quindi il rischio è che noi si perda tutti i contatti che abbiamo ottenuto fino a quel momento, e poi c'è un gravissimo handicap sul profilo, che invece sulla pagina non c'è. Ovvero, il profilo non può essere sponsorizzato. La pagina sì. E siccome Facebook, così come tutte le altre piattaforme, sono piattaforme che tendono a dare sempre meno portata organica, cioè sempre meno portata senza pagare, bisogna pensare al futuro, e pensare al futuro, per quello che riguarda il business, è senza dubbio una pagina, anche se si ha l'impressione che funzioni peggio. Ecco, gran parte delle persone che magari sono in quest'area del benessere, quindi tra lo sport, la nutrizione, eccetera, così come gli allenatori, sulla domanda di Luca Peri dell'Academy, ma poi sta per entrare con noi anche un altro professionista che vedo lì nella faccina, e lo saluto sotto nella telecamera interna. Hanno bisogno di avere, diciamo, un rapporto con dei dati personali, perché altrimenti non è più una consulenza online. Se io non ho un'anamnesi sportiva accurata, ho difficoltà, ho difficoltà, chiaramente, a poter progettare un programma di allenamento, di nutrizione, o eccetera. Come fai in questi casi, quando magari hai una domanda di questo tipo con un professionista che ha bisogno di creare una relazione sulla base anche di dati che devono essere prodotti nella prima fase, elaborati, e poi successivamente, come dire, controllati per vedere se le cose stanno andando bene. Cioè, come fai? In che senso? Tecnicamente intendi? Tecnicamente, sì. Adesso tecnicamente poi passiamo all'esperto dentro che ci farà la domanda sua. Ma, cioè, scusami, non so se ho capito bene. Adesso tu, tra 15 giorni, quando sarai finito tra una sedia, il divano, inizierai ad avere i dolorini, cose, eccetera. No, qui devo andare magari da un personal trainer piuttosto. Beh, la prima cosa, se è bravo, spero che ci segui non solo quelli bravi, la procedura deve essere la stessa, ovvero, l'anamnesi sportiva. Non sento più l'audio. Sì, sì, no, nel senso che ci devono essere tutte le persone. Aspetta. Chi è che parla? Io non sentivo più l'audio. Ah, no, ok. Quindi hai bisogno di una serie di informazioni da parte delle persone con le quali ti relazioni, no? Sì. chiaramente nei rapporti uno a uno quando sei in studio è facile. Questa cosa di gestire lo stesso flusso di informazioni fondamentali, si può fare online? Ci sono delle modalità anche tecnologiche, tecniche da usare? Guarda, secondo me assolutamente sì. trovo, per esempio, ti faccio alcuni esempi concreti, poi spero che siano calzanti. Per esempio, tutti noi abbiamo spesso il problema della condivisione di documenti, gli esami del sangue banalmente che devi condividere con un professionista non lo sai bene allora gli fai le foto sono tutte storte e roba di questo genere. Invece abbiamo la possibilità per esempio di aprire Dropbox che è gratuito per tutti e più o meno tutti sappiamo che cos'è è tra l'altro un app in cloud cioè tutto quello che c'è in Dropbox è presente sia sul vostro telefono che sul vostro computer che nel cloud appunto di Dropbox e possiamo scansionare qualunque tipo di file, qualunque tipo di foglio di carta e renderlo un pdf in un secondo. Quindi non esistono secondo me delle cose a parte cose prettamente fisiche manipolatorie o di nutrizione intesa come mangiare non esistono cose che non possono essere fatte online senza dubbio. Il passaggio di documenti per esempio sempre con Dropbox mio papà ha avuto dei problemi tempo fa e mi interfacciavo con un chirurgo e gli passavo le tac che erano sul cd via un transfer quindi secondo me davvero non c'è qualcosa che non esistono limiti da questo punto di vista è più mentale il limite non c'è tecnicamente non c'è questo limite per esempio ieri mi ha chiamato una ragazza alla quale ho fatto formazione tempo fa e mi ha detto guarda io sarei interessata a fare dei podcast ma non ho idea di dove metterli per esempio le ho detto guarda le metti su Spreaker che è una piattaforma gratuita e da Spreaker vanno a finire su Spotify su Apple Podcast su Google Play Music lei è rimasta sconvolta completamente perché mi ha detto me lo sapevo quindi alla fine si tratta solo di individuare gli strumenti giusti nella modalità giusta per il fine giusto ma c'è tutto online non bisogna mai chiedersi posso fare questo bisogna solo chiedersi come faccio a fare questo ok allora adesso domanda difficile perché entra con noi un'altra persona che insomma anche lui ha iniziato un po' di anni fa ha più di 40.000 followers ed è un personal trainer online offline Michele Spreghini Michele insomma molto noto fa tante cose ha fatto anche una serie di corsi online fa al momento tanti altri adesso si sta lanciando proprio con tutta una serie di attività anche per incentivare le persone che sono a casa finalmente a muoversi quindi tutta una serie di live alle 17 mi sembra adesso non vorrei 17 dove poi è importante da seguire allora grazie a Michele per essere con noi qual è la domanda che vuoi fare a Rudy? allora buonasera innanzitutto ciao allora la mia domanda è piuttosto concettuale però è un problema del quale me ne faccio sempre abbastanza carico nel lavoro del personal trainer è molto è molto per chi lo fa da tanti anni anche online è molto facile come hai detto giustamente tu i vari strumenti che ci sono per poter proseguire una consulenza a meno che non ci siano appunto delle problematiche di tipo manipolatorio cioè la tecnica del tocco si chiama noi che è quella per sentire l'attivazione muscolare alcune cose non si possono fare anche Luca prima ha detto giustamente che per l'attività posturale tante cose devono essere fatte di persona però magari un personal trainer ha la necessità anche di diversificare quello che è il suo business che magari andare oltre quello che è il discorso consulenza one to one anche una consulenza online e allora vorrebbe produrre un proprio prodotto una serie di percorso di allenamento comunque di miglioramento fisico però magari prima ha fatto tutta una serie di content marketing sull'importanza della personalizzazione di un percorso come vince questo questo scoglio concettuale che si è autofatto cioè l'autogold è chiarissimo allora secondo me cioè la tua domanda è molto interessante perché alla fine tu stai dicendo io ho creato nel mio personal branding ho comunicato che è fondamentale fare un percorso personalizzato e poi dopo voglio fare un'attività invece per riuscire a prendere ecco allora secondo me c'è un modo non voglio dire semplice perché di semplice non c'è niente però è un modo molto lineare per fare un'attività di questo tipo e può essere fatto dal macellaio fino al fisioterapista è una cosa che possono fare realmente tutti e lo faccio anch'io secondo me si dovrebbero creare dei contenuti diciamo accessibili a tutti e gratuiti e il più possibile standardizzati quindi adesso io purtroppo mi chiedo scusa non conosco il vostro lavoro quindi non uso i termini giusti parlo di quello che ho fatto io per capirci infatti era concettuale la domanda non tecnica quindi figuriamoci noi scriviamo 5 mini ebook in pdf di 5 pagine l'uno 6 pagine l'uno in ognuno di questi esprimiamo un problema e la sua soluzione relativa che non è la sua soluzione assoluta perché ovviamente per avere una soluzione assoluta bisogna andare da persona a persona dopodiché questi li mettiamo a disposizione delle persone gratuitamente sul nostro sito per esempio che ci lasciano la loro mail questo che cosa serve? serve alle persone ad avvicinarsi a noi come professionisti cioè a fidarsi di noi perché gli abbiamo dato un contenuto che in qualche modo risolve in parte il loro problema e ci rende rende noi il loro punto di vista in caso di proseguire un percorso di personalizzazione e in più in questo modo noi sul nostro sito avremo sempre persone e contatti di individui interessati oggettivamente al nostro settore al nostro business o al nostro lavoro è importantissimo capire una cosa per avere bisogna prima dare anche in ottica anche in ottica professionale cioè se io voglio che i clienti vengano da me cioè per avere clienti prima devo dar loro qualcosa per far sì che loro si fidino nel mio blog per esempio ho 5 ebook gratis ognuno su un settore videogame instagram chi più ne ha più ne ha digital pr proprio per riuscire a prendere le diverse persone con delle necessità per diventare un punto di riferimento e in seguito per andare a personalizzare la loro comunicazione ok 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 purtroppo però nel fitness tanti piuttosto che fare ecco questi questi queste anticipazioni contestualizzando la soluzione a un problema ipotetico all'interno di un ebook purtroppo nel fitness tantissimi professionisti chiamiamoli così che hanno paura di dare molto sciogli ecco ti faccio un esempio che non c'entra niente perché così ci capiamo benissimo a Ferrara c'è una macelleria io sono di Ferrara c'è una macelleria che sta in un posto imbucatissimo proprio in un paese dove non abita nessuno distantissimo sono bravissimi fanno della carne straordinaria e hanno cominciato a fare comunicazione online proprio comunicando i loro prodotti hanno cominciato a fare esattamente così una volta un pdf su come si fa la salamoia una volta un pdf su come si fa il barbecue come si prepara la monza come si fa la salsa barbecue è chiaro che loro danno informazioni che uno dice eh però queste informazioni poi non me le vengono a chiedere il negozio ma non verrebbero comunque il negozio perché queste informazioni le cercherebbero online le troverebbero da qualche altra parte e andrebbero in quel negozio e quindi secondo me non dobbiamo pensare la condivisione non è creare i competitor ripeto o non è regalare informazioni è posizionamento ti volevo chiedere una cosa su questo consiglio tu non ritieni che questo modo del pdf scaricabile così come dei tre video sia un po' inflazionato sì 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 è ammazzato la risposta assolutamente sì però penso anche un'altra cosa ok però siccome è necessario come cerchi di differenziarti su io penso che sia inflazionato perché è già stato fatto tanto ma non è stato fatto così spesso cioè nel senso che se noi andiamo in giro non è che ne troviamo così tanto di materiale buono disponibile per per il download piuttosto che per qualunque altra cosa io sono assolutamente convinto che non si debba campare su questo deve essere una parte della nostra comunicazione deve essere diciamo una fase una fase due della nostra comunicazione la fase uno è generare traffico portare gente sul sito o sui nostri social la fase due è portarli sui nostri contenuti per esempio da download o da tecnicamente si dice lead generation cioè io ti do qualcosa in maniera che tu diventi il mio lead il mio contatto che ti posso poi ricontattare eccetera molte volte nasce un po' l'ansia delle persone insomma quelle che conosco io magari conosce Michele conosce ovviamente tu che dicono si si no ma ho capito ho capito guarda ho fatto la pagina fanno il primo video e al secondo già vendono fanno la pagina Giosuano questa cosa io tutte le volte dico ragazzi poi devo dire questo lo cito Michele perché siamo nati insieme più o meno nell'estate del 2016 più o meno e abbiamo venduto insieme oltretutto abbiamo fatto un ebook comune a febbraio del 2017 quindi erano passati insomma sette mesi otto mesi e per otto mesi io e lui avremmo fatto credo 400 video gratuiti disposizione eccetera eccetera dopo otto mesi abbiamo fatto il primo pdf a nove euro ovviamente è stato iper venduto quindi quando tutti quanti mi dicono ah ma certo ma tu lo fai facile ti seguono un sacco di persone io ho bisogno di vendere io ti ho detto guarda tutto a posto ma tu sei disposto a fare un progetto dove dai il 99% del tuo tempo dei contenuti eccetera poi fra nove mesi vediamo eh sì io quello che ho fatto e l'ha fatto anche Michele però io vedo che tante altre persone che dicono guarda Gian Mario lo faccio anch'io secondo video che è il video di vendita no ma c'è qualcosa di strano ma infatti non funziona così non è così che deve essere perché ma ragazzi ma cioè io posso dire una cosa brutta a nessuno non gliene frega niente di quello che abbiamo da vendere noi cioè è così le persone hanno dei problemi o delle necessità ok e queste sono queste due quale leve verso le quali noi dobbiamo andare la settimana scorsa il mio socio che conosci bene Scande ha fatto una consulenza Riccardo Scandellari che saluto lo conosco virtualmente Riccardo Scandellari esatto che stimo certo parliamo prima Gian Mario per quello che te l'ho citato ha fatto una mini consulenza un professionista che postava sui social hai paura per quello che riguarda adesso non ricordo se investimenti case qualcosa di questo genere hai paura visto che il periodo non è particolarmente se hai paura vieni qua a leggere quello che ho da dirti allora lui gli ha detto se uno ha paura non viene a leggere quello perché tu gli dici hai paura oh sì ho paura e va via se non ha paura non gliene frega un cazzo di quelli che hanno paura e quindi non è questo qua il modo di comunicare tu devi dire qualcosa del tipo invece di avere paura e poi prova a spiegare qualcosa allora uno dice allora potrebbe essere interessante invece di avere paura se io ho paura mi passa se non ce l'ho comunque mi dai potresti dare ecco però ti blocco su questo perché come sai bene allora io lo dico dall'esterno ma credo che siano diciamo colleghi tuoi ovviamente sono colleghi tuoi tante altre persone che fanno consulenza nella tua area invece mettono come leva primaria la paura come leva primaria il poche copie qui gli altri non capiscono nulla gli unici chiuderanno cioè creare questi titoli dove alla fine chi fa quei corsi di quei consulenti li vedi dopo un minuto perché ti arrivano queste sponsorizzate con questi titoli tutto fa schifo tutto qua solo che gli altri non capiscono poi dici ma chi è questo così bravo vai clicchi e dici ah però ha 67 followers cioè complimenti fantastico eccetera a me prudono le mani quando sento sento certe cose purtroppo non mi va di parlare d'altri però penso questa cosa e la penso davvero se qualcuno fa comunicazione sulle spalle di qualcun altro non ha capito come si fa comunicazione cioè se io devo fare comunicazione dicendo ah ma loro non hanno capito niente vieni da me che sono bravo vuol dire che io sono un coglione cioè io devo spiegare che cosa so fare io come lo so fare come so dare un aiuto alle persone poi forse posso essere scelto ma non sicuramente indicando quegli altri o facendo leva su cose che sono assolutamente becere e quindi si spiega anche perché in questa live nella mia pagina siccome io cerco sempre per mantenere un'etica ho scelto te perché prima di chiamare le persone mi guardo i video e guardo i dettagli grazie allora Michele grazie Michele quindi metti appunto il tutto in bocca al lupo una sera grazie ciao Rudy Bandiera si collega su Fit4Dance la tua pagina e farà Fit4Dance giusto? col 4 official su facebook lunedì mercoledì e venerdì alle 17 perché io questa mattina ho fatto Zumba e quindi adesso verrò a vedere te dopo questa cosa credo che ti abbia già bannato no non è vero va bene tutto anche Zumba in questi momenti basta che uscià tutto va bene tutto assolutamente non era una battuta qualunque cosa che sia un pochino più di niente va bene fatela 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 se la fate con Michele meglio grazie buona serata ciao allora bene prima hai detto un sacco di cose che effettivamente meritavano un certo livello d'attenzione adesso sono due domande dell'academy che voglio unire di Donato Muttura che è un personal trainer di Emanuele Palmieri che è un nutrizionista allora devo dire poi alla fine il concetto è un po' lo stesso molte volte quando si fanno dei rapporti online si tende intanto a essere confusi fra tanti perché poi a quel punto io non ti conosco personalmente e quindi sei uno dei tanti allora è difficile da un lato far percepire la tua autorevolezza come fare perché uno dice no Max hai quello più follower di te e dice vabbè ok oppure dall'altro caso magari nel caso di Palmieri un nutrizionista dice magari il rapporto con il cliente quando viene in studio che so mi vede in camice col bottone dell'albo dei biologi eccetera sai nei rapporti online manca qualcosa non vorrei che poi la persona pensasse che non è più un rapporto di qualità questo qui è un grande problema in effetti perché spesso cioè più che un problema è la percezione della possibilità di un problema spesso noi interpretiamo i social come un luogo di casteggio e in quanto tale pensiamo di perdere la nostra autorevolezza tra virgolette perché di persona appunto ci vediamo col camice eccetera in realtà rispondo alle due perché le domande erano in realtà due cioè come faccio a differenziarmi rispetto a tutti gli altri visto che tutti vogliamo essere professionali eccetera secondo me se si è professionisti la professionalità è molto simile cioè se ci sono se ci sono dei biologi iscritti all'albo è probabile che le cose che sanno siano più o meno le stesse cercate di capire quello che voglio dire sto semplificando nel senso che sono sicuramente dei bravi professionisti però noi dobbiamo tenere conto anche di un'altra cosa ovvero l'empatia che si crea con le persone e le simpatia che ci genera una persona quante volte ci è capitato di andare da un dottore e dire mi sono trovato benissimo perché perché è stato gentile mi ha spiegato bene semmai ti ha spiegato bene le stesse cose che ti avrebbe spiegato un altro in modo non compatibile con te e quindi quello che io dico sempre per differenziarsi basta mettere molto di quello che siamo cioè essere quello che siamo nella nostra comunicazione non dobbiamo solo essere i tecnici siamo delle persone che sanno delle cose e quindi noi spieghiamo quello che sappiamo e ad alcuni saremo simpatici ad altri saremo antipatici ma saremo assolutamente unici però dobbiamo essere il più possibile noi stessi cosa assolutamente non semplice altra cosa per differenziarsi è la verticalità della nostra specializzazione per esempio se io mi occupo di social media marketing posso occuparmi di social media marketing in generale oppure di facebook marketing oppure di advertising per facebook ok quindi si possono fare dei carotaggi di specializzazione su tanti settori diversi quindi se io sono in un mondo di biologi in cui tutti fanno i biologi devo prendere il mio settore quello che conosco meglio quello che mi appassiona di più quello su cui sono più specializzato e approfondire quello è lì che devo concentrarmi non su tutte le altre cose il generalismo sui social non funziona purché non si sia selvaggia lucarelli o non si voglia fare l'opinionista ecco un'altra domanda poi invitiamo un altro esperto esperto insomma persona nota ma insomma la includiamo la vediamo tra poco ma su questo è importante perché molte volte cioè da un lato la così quel timore di forse di essere esposti un po' al giudizio degli altri no? perché finché tu hai rapporto uno a uno nel laboratorio ok sei protetto dal tuo ambiente quando esci dal laboratorio vai in pubblico no? ti metti un po' al giudizio dici ma poi mi commentano sai gli haters le cose e quindi certi non accettano questa cosa e si portano un po' indietro altri che invece questo è il secondo alibi primo era quello il secondo alibi per lo meno delle persone che mi dicono che dicono a me queste cose è vabbè ma ho fatto la pagina tanto che so al massimo sarà 6-800 persone cioè non serve a niente no? come se questi numeri di vanità dice eh se non è almeno 20.000 ma chi ti fila no? credo che questa sia una cosa come hai detto tu insomma lasciamola stare all'influencer più forte e poi ci dirai anche la definizione di influencer però credo che adesso invece bisognerebbe profilarsi e diventare esperti ma veramente evitare anche perché prima tu hai citato gli algoritmi evitare anche che nella pagina ci siano pesi morti perché perché poi alla fine la ratio sarà bassa perché se tu inizi ad aggiungere amici cose cioè per far arrivare subito a mille ma anche no ma perché ma meglio che rimane 150 utili che almeno quando dici una cosa sicuramente gli arrivi a loro ecco come fai a togliere un po' questo prosciutto dagli occhi alle persone che che hanno questo doppio problema uno non si vogliono mettere subito alla berlina che poi non è vero devi comunicare e secondo che dicono e vabbè ma sai ormai è troppo tardi perché l'avessi dovuto l'avessi fatto ormai arrivare a numeri importanti e quindi non lo faccio allora per quello che riguarda la berlina lo capisco perfettamente dopo poi salta fuori quell'atteggiamento snob cioè no no i social non fanno per me no non è una roba che mi interessa in realtà siamo in 28 milioni su facebook ti dovrebbe interessare cioè se ci vuoi se vuoi fare business per i prossimi 10 anni 15 anni in qualche modo dovrebbe interessare dicono no ma sai sono tutti ragazzi oppure gente tra quei coglioni là ci sono anche io ci sei tu allora l'età media di facebook di iscritti a facebook è 41 anni cioè quindi facebook è un posto per niente di ragazzi se vogliamo i ragazzi devono andare da altre parti io non so se qualcuno qua dentro conosce twitch o mixer è lì che dobbiamo andare a trovare o tiktok appunto è lì che dobbiamo andare a trovare i ragazzi non su facebook comunque sia questo è un altro discorso dico sempre tu preferisci avere 10 persone che quando dici qualcosa fanno tutto quello che tu dici perché si fidano ti vogliono bene e comprano i tuoi prodotti vengono ai tuoi corsi e vengono a farsi massaggiare da te o averne mille che pensano che tu non vali nulla oppure che non sanno neanche che esisti cioè il numero di fan non ha alcun valore da solo da solo il numero di fan deve essere abbinato ad altre variabili il numero di fan è importante nella misura in cui i fan ingaggiano cioè reagiscono a quello che tu dici o fanno quello che tu dici ingaggiano numero di fan o i canali di produzione di contenuto cioè mi spiego se qualcuno scrive su repubblica o su redibandiera.com ha un peso completamente diverso quindi bisogna creare dei luoghi che siano il più autorevoli possibile con il giusto numero di fan non alto che siano interessati a quello che dici quindi evitiamo di andare su Instagram usare i bot per far vedere che abbiamo tanti like perché non serve a niente sono finti perché non serve a niente comprare i like comprare i fan comprare non serve sono macchine sono numeri inutili io voglio avere clienti se questo è il tuo fine non ti interessa il numero di fan ti interessa che facciano quello che tu dici perché ti vogliono bene e si fidano ecco c'è una domanda scusate purtroppo quando ci sono le live tutte in contemporanea su vere piattaforme mi sfuggono e quindi ho delle domande della Sports Science Academy e delle persone che entrano poi ogni tanto riesco anche a leggere quindi questo ho visto Angelo Desiati che dice però insomma a volte consigliano di fare tanti contenuti uno al giorno basta che li fai e invece magari insomma adesso Rudy anche io dico no no fate contenuti di qualità perché rimangono eccetera quindi poi alla fine contenuti di qualità quali sono le fonti di informazione per le quali noi dovremmo creare contenuti di qualità e poi perché questa differenza cioè così giusto tanto tutti i giorni quella goccina tutti i giorni oppure magari quel contenuto di qualità che rimane tu come la vedi anche perché su questo chiaramente le visioni sono sempre differenti questo è un tema che io amo allora vi racconto questo brevissimo aneddoto due anni fa io su LinkedIn ho fatto LinkedIn Pulse quando la piattaforma blog di LinkedIn Pulse funzionava bene ho fatto un post che è stato il più letto in italiano di sempre un post sulla Tesla modello 3 model 3 che dovrebbe essere uscito o stare uscendo con un milione settecento mila view ok sapete come si chiama questa cosa si chiama culo niente di più e niente di meno se uno fa un post che spacca e fa tantissime visite è fortuna non sono quelli che mi convertono in lavoro sono il lavoro che faccio tutti i giorni che mi porta clienti contatti eccetera quindi quello che io dico è Montemagno per esempio che è bravissimo a fare contenuti lui dice ma cosa ci vuole ti alzi un'ora prima e fai dei video tutti i giorni lui è bravissimo a fare contenuto ma non è così facile io dico fatele il più possibile cercando di rosicchiare del tempo ad altre cose al inizio sarà molto complicato ma poi lo sarà un po' di meno il problema sostanziale dei contenuti è che cosa dire non trovare il tempo per farli perché noi spesso diciamo io non ho tempo ammettendo di trovare il tempo la difficoltà è cosa dico quindi bisogna trovare delle fonti che siano interessanti avere studiare tantissimo sui libri sui siti sui social confrontarsi avere delle cose da dire e riuscire anche a elaborare dei concetti nuovi e non è per niente facile Alessandra Colangelo che poi devo dire in un altro gruppo mi aveva dato proprio lei l'idea di affrontare questa questa questo argomento quindi la salutiamo dice quindi in parte bisognerebbe comunque pagare qualche consulente e impar investire del tempo della tua attività per produrre contenuti e aggiungo cioè queste operazioni dei social dovrebbe diventare parte del lavoro non una cosa a fare quando ho tempo sì c'è un altro grande tema che è quello del ma è meglio che io paghi un professionista per farmi le cose o è meglio che io me le faccia da solo usando il mio tempo questo è veramente un grande tema e io non ho una risposta che vale per tutti però una cosa che mi piace dire è questa qua la cosa migliore che tu possa fare è imparare a farlo perché così non ti leghi a qualcuno e rimani al passo e diventi indipendente il problema è che è difficile è veramente tanto complicato quindi si può fare una start up tra virgolette cioè si parte con una consulenza o con della formazione per esempio se si creano le basi e poi da lì si comincia a studiare ci sono tantissimi testi straordinari in Italia penso a Veronica Gentili che ha scritto libri su Facebook advertising su Instagram eccetera bellissimi che parlano di come si fa la pubblicità su Instagram in cui si trova tutto quello che riguarda quel tema e quel settore quindi leggere tanto di settore rimanere al passo e cercare di creare i nostri contenuti se non giornalieri il più possibile io ho fatto personalmente consulenza adesso la sto facendo sempre meno perché non ho più tempo di fare consulenza come dicevo prima con Gian Mario però ho fatto consulenza personalmente a due professionisti che fanno marketing scientifico e cyber security cioè cose distantissime e dopo un anno di attività costante sui loro contenuti hanno duplicato il numero di clienti provenienti dai social dal web eccetera quindi il sistema funziona però ci vuole costanza tempo energia risorse ecco quindi guarda te la riscrivo così conoscendo un po' le cose anche avendolo fatto io per primo e io devo dire quando mi dicono ah ma tu hai fatto una cosa adesso hai centinaia di migliaia e tu guarda io sinceramente nel 2016 facevo un altro lavoro io facevo il consulente facevo delle operazioni quindi a me andava bene fare una pagina di duemila persone io puntavo ad averne duemila veramente che potevano tanto avete visto passare qualcuno sulle scale con un pigiama rosa a distanza di un metro però è a casa di bandiera mi raccomando se no abbiamo le prove che non rispettiamo adesso no non ripasserà e quindi dicevo ho fatto questo poi nell'arco veramente di molto poco proprio anche per quel culo che hai detto tu io ho fatto un video sull'acido lattico che il tempo di tre giorni mi ha dato 15.000 followers con una roba infatti anche Marco Montemani in quel periodo era nella sua community diceva aveva fatto 250.000 visualizzazioni enorme e infatti lui ha detto si capisce perché migliaccio ha avuto questi numeri l'aveva sponsorizzato ma io non ho pagato neanche non sapevo neanche cosa dovevo cliccare veramente per sponsorizzare a quel tempo perché niente la gente se l'è condiviso eccetera e io sono arrivato a 40.000 50.000 followers in tempi rapidissimi cioè proprio a 6 mesi ero già così quindi nel 2017 ho cambiato proprio totalmente anche perché alla fine dici come faccio a fare la consulenza uno a uno quando questi numeri allora proprio mi sono fermato un mese a riflettere a quel punto ho detto perfetto le cose andranno così faccio proprio una start up innovativa dove è un altro modello di business e quindi ridisegno questo perché altrimenti avrei fatto male la consulenza gestendo tanti in poi pochi ho dovuto dare un taglio alle consulenze cosa che mi dispiace perché ci tenevo ma non si possono fare le cose nello stesso modo entrambe ti posso fare una domanda io quando tu hai fatto questo contenuto spaziale che ha spaccato era il primo contenuto che facevi il terzo appena cominciato sì dopo una settimana il terzo video una botta di fortuna incredibile sì perché era il momento nel 2016 dove comunque facebook aveva aperto un po' il rubinetto ai video quindi bastava mettere un video e c'era una riccia dieci volte superiore rispetto a un posto normale un'immagine e quindi mi aveva fatto andare sulla cima dell'onda e via cosa che sinceramente è difficile in questo periodo anche se proprio l'altro giorno per un video che ho fatto sull'attività fisica eccetera ha avuto una botta incredibile mi sembrano diversi tempi passati di tanto tempo fa però ecco non si può pianificare qualcosa su quel colpo di C che insomma a volte c'è no non si può presentare questo un'altra domanda al volo prima di passare al prossimo ospite ed è Leonardo Rocca anche lui è osteopata tu l'hai citati prima gli osteopati quindi l'abbiamo trovato uno in Academy che dice sì però effettivamente come fai questo l'abbiamo un po' parlato però poi è importante perché come vedi la remora c'è anche i professionisti lui è veramente molto bravo poi anche zona tua come fai ad evitare di essere uno dei tanti cioè come come puoi percepire come il valore e come fai a percepire se stai andando bene questo mi riallego anche a una domanda di Daniela Veneri che online quali parametri social mi fanno capire se sto facendo bene in quanto tempo allora al di là degli insight dei social cioè noi possiamo guardare diciamo le statistiche della nostra pagina Facebook piuttosto che di Instagram e capire come funziona qualcosa rispetto a qualcos'altro però secondo me ci sono due quelli bravi li chiamano KPI due obiettivi diciamo che possiamo in qualche modo individuare per quello che riguarda i nostri contenuti allora il primo è se funzionano quanto funzionano e quali funzionano sui social io uso un metodo che chiamo ingaggio ponderato e l'ho poi anche scritto nel libro di Mondadori di cui parlavo prima c'è Mario in pratica faccio una cosa molto semplice perché ci siamo conosciuti perché entrambi siamo stati pubblicati a Mondadori a distanza di qualche mese è vero Rudy Bandiera è lui a migliaccio e quindi diciamo scambia e dice ah sei tu è ok è vero è vero questa carambata è verissimo la carambata esatto in pratica io faccio una cosa molto semplice ammettiamo di mettere un post su Facebook noi possiamo ricevere su un post qualunque tre tipologie di di ingaggio cioè tre tipologie di attività uno è il like uno è il commento e uno lo share per l'algoritmo questi tre queste tre variabili non sono uguali perché comunque un like ha un valore relativamente basso un commento molto più alto perché io accendo il cervello per mettere un commento e lo share la cosa che ha più valore di tutto è perché diciamo metto la mia credibilità sul contenuto di qualcun altro ecco quindi io ho dato a questi tre attività un valore di uno tre e cinque se io prendo ogni mio contenuto faccio il numero dei like moltiplicato per uno o un numero il numero dei commenti moltiplicato per tre o un altro numero il numero degli share moltiplicato per cinque o un altro numero sommando questi tre numeri ottengo un numero empirico che chiamo ingaggio ponderato che mi dà il valore di engagement di quel contenuto se tu lo fai per un mese su tutti i tuoi contenuti non su quelli degli altri sui tuoi sai esattamente che cosa la gente vuole da te se vanno meglio le tue foto se vanno meglio i tuoi contenuti testuali se vanno meglio i tuoi video e attenzione perché ci possono essere delle sorprese per quello che riguarda me per esempio la cosa che funziona meglio per quello che riguarda i miei contenuti è il testo e tutti dicono ah ma sono le foto quelle che ingaggiano di più dipende dipende da chi sei da con chi stai parlando se sei bravo a fare le foto se sei bravo a scrivere da queste cose dipende quindi una volta che tu hai individuato che cosa la gente vuole da te che cosa ingaggia di più un altro KPI un altro obiettivo che devi ottenere è ma tra questi qua quanti sono quelli che vengono oggettivamente in ambulatorio da me per esempio a farsi manipolare quindi bisogna chiedere alle persone che vengono come sei venuto a conoscenza di me hai parlato con qualcuno bisogna intervistarle fare quelle che vengono definite survey da quelli bravi intervistarle per cercare di capire come sono arrivati e andare a potenziare quei canali dove noi siamo o più forti o meglio posizionati ecco su questo ti voglio fare un esempio anche nel mio lavoro come io devo vedere le ricerche scientifiche cercare di spiegarle e tutte le volte alla fine mi vedo delle cose improponibili adesso per esempio Belen ieri che ha detto di prendere tanta vitamina C perché combatte il virus eccetera io ho dovuto fare un post perché insomma va benissimo Belen è tanto autorevole quando sta zitta in costume è perfetta però se parla e dice queste cose perde molta autorevolezza questo però purtroppo lo fanno tanti altri addirittura altri professionisti perché? perché leggono il titolo della ricerca senza andare a fonda capire a statistiche eccetera e quindi dicono sì 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 è così l'ha detto lo studio no ma lo studio non dice quello nel caso della vitamina C quelle alte dosi sono per endovena in malattie terminali mi sembra che non sia questo il caso per cui non possiamo diffondere un messaggio sbagliato dall'altro canto questa operazione dei diciamo del valore cioè della condivisione vale tanto il commento vale e il like non vale quasi niente molti guardano il suggerimento e cosa fanno? scrivono a grande condividi 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 cioè forzano la condivisione e dice vedi l'ho detto ma non succede no ma la condivisione quando è che nasce cioè qual è che stimola la condivisione dirlo o non dirlo? ma sicuramente non quando lo diciamo noi cioè se io dico a qualcuno di fare qualcosa perché dovrebbe farlo cioè quando io condivido qualcosa condivido perché ci credo perché mi piace perché voglio che le persone che mi seguono abbiano quell'informazione non perché io l'ho detto cioè io è una cosa che non faccio mai di dire condividi condividete ma perché non è un ordine perentorio di questo tipo che fa sì che le persone condividano è quando loro credono in quello che dico che andranno a condividere l'altro giorno ho fatto un video in cui dicevo parlavo dello stare in casa prima del lockdown diciamo che si chiudesse tutto dicevo che comunque lo slogan era questo qua meglio annoiati che intubati e quindi dicevo stai in casa annoiati trovo qualcosa da fare ma è molto meglio piuttosto che andare in ospedale prenderti il virus eccetera e alla fine ho scritto questo forse questo forse ha un valore di condivisione rispetto alle altre cose che dico ma è stata l'unica volta da quando faccio contenuti che ho detto questo ha un valore di condivisione non lo faccio mai 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 io sconsiglio di farlo allora al volo delle domande che sono arrivate come funzionano gli hashtag su instagram intanto funzionano servono allora ho fatto un video poco tempo fa proprio su questo tema secondo me la tua pagina Rudy Bandiera pagina l'ho fatto su instagram l'ho messo sulla pagina è sul blog è dappertutto su youtube secondo me ragazzi hanno uno straordinario valore estetico sono bellissimi e basta cioè mi spiego secondo me l'hashtag va bene se è all'interno della frase per dare un valore evocativo per esempio l'hashtag che riguarda la città oppure l'argomento di cui si sta trattando non certo per aumentare la reach la portata eccetera è ormai da un certo punto di vista acclarato che a seguire gli hashtag sono sì le persone ma sono soprattutto i bot i software di crawling quindi secondo me davvero non ha molto senso che ci ammazziamo a pensare agli hashtag ma c'è una cosa che invece secondo me ha molto senso anche su instagram l'usare testo contenuto testuale usare dei testi che siano piuttosto lunghi piuttosto che frasi brevi con tanti hashtag perché questo perché l'algoritmo di facebook di instagram di linkedin di tutti è perfettamente in grado di leggere un testo fa un po' più fatica a leggere un'immagine quindi il testo gli piace di più e se noi siamo in grado di scrivere dei contenuti che abbiano diciamo uno spessore abbondante spieghiamo esattamente all'algoritmo a chi dovrebbe mostrare quel contenuto quindi invece di ammazzarci sugli hashtag pensiamo a che cosa scrivere allora passiamo intanto mi faccio sorridere perché proprio oggi è stata bloccata un mio amico una pubblicità su facebook dice no ma non è possibile ma io non ho messo l'ho andata a vedere e gli ho detto ma questo hai scritto in grande il video integrale su youtube dice va bene ma quelle immagini figurate se se ne accorgono se ne accorgono se ne accorgono quindi anche lì cioè vogliamo veramente riconoscono il viso figurate se non riconoscono un testo su una cosa allora prima parlato di persone che magari volevano avere delle consulenze che so per il mal di schiena allora io ti voglio proprio includere qui un preparatore atletico che poi invitiamo eccolo qua Luigi Angelini ciao Luigi ciao Luigi ciao Luigi 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 sei con noi? ciao Luigi Angelini non sei con noi allora ti tolgo fammi sapere con la mano quando sarai con noi proprio perché in questo momento lui sta facendo una serie di attività due sono che è il preparatore di un atleta del golf ecco che è tornato bene è tornato tra noi pronto? senti adesso? non sento l'audio c'è un ritardo forse sì a tutto a posto Luigi adesso come va? ok niente ti tolgo fammi sapere dove ci sei allora ti la faccio la domanda di Luigi Angelini perché lui ha fatto un tanto è insomma preparatore a due ok perfetto e come fanno quelli bravi ti tolgono la comunicazione Luigi se riesci prova a rientrare e proviamo ci riproviamo lui ha un atleta del golf che è nel ranking per Tokyo e quindi stanno adesso lottando per la qualifica e poi Giovannazzi Giovannazzi che è un atleta di Formula 1 e quindi lo sta allenando a Monte Carlo nel mentre però ha sviluppato devo dire un progetto di anni un corso proprio online per chi ha mal di schiena lui è preparatore non è fisioterapista quindi non è un corso che ha una terapia ma ti insegna grazie all'attività fisica man mano a riequilibrare il tuo corpo e a fare in modo che funzioni devo dire il progetto è andato avanti funziona molto bello il corso molto accurato ora se tu dovessi dare chiuso un consiglio a chi fa un progetto di questo tipo che ci ha messo del tempo e così via come genera valore questo man mano nel corso del tempo e quali possono essere i suggerimenti in questo caso non si deve rivolgere agli atleti ma si deve rivolgere a chi magari fa lavori a casa o in ufficio o sta seduto insomma quei problemi che sono un po' per tutti allora prima di fare un'attività di generazione di comunicazione scusa di generazione di contenuto farei un'attività che viene definita di crawling adesso vi spiego bene di cosa stiamo parlando perché potrebbe sembrare una parolaccia in pratica il crawler o spider anche google funziona così è tipo un'istruzione software tipo un gingillo immaginiamolo che si sposta da un sito all'altro quella semplifico ovviamente banalizzo spero di non essere insultato da qualche tecnico per questa cosa che si sposta da un sito all'altro leggendo quello che c'è scritto per poi riportare le informazioni al proprio padrone cioè google funziona così il crawler di google si sposta sul mio sito legge tutto e riporta le informazioni a google poi si sposta attraverso i link va su un altro sito legge le informazioni le riporta a google e poi crea quella che noi vediamo come pagina di ricerca di google ok questa attività viene definita di crawling cioè un software che si sposta emulando il comportamento umano esistono dei tool anche gratuiti ce n'è uno che si chiama mention mention.com che serve a fare attività di crawling programmata da noi cioè in pratica noi sappiamo che dobbiamo fare che dobbiamo curare il mal di schiena faccio un esempio faccio l'esempio che hai mai fatto tu Gian Mario noi dobbiamo curare il mal di schiena quindi imposteremo il nostro bot il nostro crawler per cercare tutti quelli che online hanno parlato di mal di schiena quindi troveremo sia i dottori su quali social ovunque purché sia un social aperto open diciamo cioè nel senso che non posso andare nelle messaggistiche private nei gruppi chiusi però Instagram Twitter senza nessun problema Facebook fa un po' più fatica però le pagine pubbliche becca anche quelle quindi succede che ciao bentornato buonasera ah ci sei concludo mi riesce di rispondere perché poi tu sei stato punito quindi per un attimo sei stato bannato in pratica succede che il software ti riporta tutte le conversazioni che hanno al proprio interno la keyword adesso sto banalizzando la keyword mal di schiena a quel punto tu puoi capire non solo chi ne parla ma anche come ne parla cioè che tipi di mal di schiena hanno le persone come si stanno curando se si stanno curando chi ce l'ha e con chi ne parla che tipo di domande fanno una volta che abbiamo questo quadro allora possiamo impostare la nostra comunicazione sul nostro settore quindi mention c'è qualche altro tool che ce n'è uno molto interessante che si chiama talk walker talk come parlare walker come camminare c'è anche una versione gratuita che si chiama talk walker alert quindi mention talk walker digimind radian 6 radian 6 ce ne sono tantissimi alcuni costano molto alcuni sono gratuiti mention nella sua forma gratuita funziona piuttosto bene anche talk walker e quindi si può provare un'attività di questo tipo prima di fare comunicazione ecco prima c'era anche una domanda che scorreva che diceva quindi si possono sfruttare anche i trend questo è un po' sfrutta i trend volendo certo e se uno volesse un po' sfruttare i trend del momento per creare contenuti come dovrebbe fare? ma per esempio c'è un tool gratuito di google che si chiama google trends che è straordinario che ti mostra tutto quello che le persone cercano anche in tempo reale in italia in più paesi o nel mondo quindi se noi andiamo su google trends si chiama poco così troviamo tutto quello che le persone stanno cercando ed è evidente che quelli sono i temi caldi e i temi caldi sono quelli che algoritmicamente sono anche preferiti dei social network ecco poi alla fine se imparate queste cose vi consiglio di fare subito una cosa facile allora guardate i trend poi guardate un attimino facebook e guardate qualche politico adesso non faccio nomi se magari che so mangia la pasta si mangia le uova vai nei negozi dici che strano era il primo posto del trend due ore fa mangia la pasta sai cos'è la cosa bella è che noi pensiamo che siano loro a creare i trend e invece loro seguono i trend è incredibile questa cosa allora Luigi Angelini lo ripresento secondo me l'ha fatto apposta così si è fatto presentare due volte lui da Monopoli quindi devo dire è l'eccellenza della comunicazione online lui dice Monopoli scusa dov'è Monopoli che poi è l'ombelico della Puglia io direi del mondo Gian Mario del mondo e lui ha due casi diciamo noti uno nel golf che attualmente è nel terzo nel ranking e quindi puntano a Tokyo 2020 e poi l'altro di Formula 1 infatti devo dire in questi giorni lui sarebbe dovuto essere in Australia per l'inizio del campionato di Formula 1 però col fatto che l'hanno bloccato l'atleta è lì mi sembra giusto? è rientrato l'avrebbe dovuto raggiungere invece qua ti metti un attimino più spostato poi ti vedo solo ok perfetto allora fai la tua domanda la tua domanda Rudy allora avendo un'attività ordinaria che è proprio la palestra negli anni ho cercato sempre per passione di comunicare di comunicare con i video ho aperto subito il canale YouTube la pagina Facebook e man mano senza avere un piano editoriale ma facendomi trasportare dall'istinto e dalla casualità ho cercato quella che era la mia identità online ci ho messo tanto ci ho messo circa un anno e mezzo prima di capire che in base a quello che era il mio percorso di vita il mal di schiena poteva essere diciamo un argomento grazie al quale potevo essere utile alle persone e quindi in questa fase ho strutturato un videocorso ci ho messo circa tre anni anche grazie a tutti i membri della Sports Science Academy quindi anche grazie a dei ricercatori presenti per motivarlo abbiamo usato tutte le cose siamo arrivati a così alla frusta gli insulti perché cioè uno dice basta però fallo no? perché l'uno dice quando ho fatto ok adesso è di quelli che bisogna un po' spingere esatto alla fine ci siamo riusciti ho appunto un sito un blog ho passato tutta l'estate a lavorare ok Rudy non è psicologo però vai alla domanda e quindi ora il prodotto è pronto abbiamo venduto i primi prodotti non so se più qua va bene perfetto ok abbiamo venduto i primi videocorsi ho comunque anche io ho un social media manager quindi dico che senza un social media manager senza un'equip un libero professionista difficilmente può raggiungere determinati livelli secondo me in base a quella che è la mia esperienza professionale di vita in questa fase poiché non è facile gestire la comunicazione quindi creare continuamente contenuti allo stesso tempo seguire sia un'attività che atleti di alto livello la parte che viene meno spesso è proprio quella in termini proprio di lavoro di creazione di contenuti è quella del videocorso che è un prodotto che funziona perché le persone hanno oggettivamente migliorato la loro qualità di vita hanno risolto i problemi però allo stesso tempo è un prodotto che ha bisogno di una presenza costante di un lavoro costante e quindi quello che mi viene da chiedere è un professionista che si deve dividere fra più attività mettiamo atleti d'elite attività ordinaria e videocorso come fa a cercare di avere un'elevata produttività come fa a cercare di mantenere in vita il più possibile videocorso perché a livello di contenuti io ho veramente creato tantissimo rivolto a più categorie di persone la domanda è chiara Rudy cioè come fa a implementare ulteriormente a cercare di mantenere poiché un'attività del genere è anche molto onerosa io l'ho fatto diciamo molto per passione molto perché sono una testa dura perché ci credo però se oggettivamente dovessi vedere il tempo che ho investito i soldi che ho investito il ritorno economico che ho avuto al momento non è un'attività che è inattiva però la domanda è chiara tu hai fatto un lavoro di tre anni eccetera e se è pronto bisogna mandarla avanti come gestisci queste cose unendo questo business a qualcosa che diciamo quello dovrebbe essere diciamo scalabile e invece qualcosa che invece è reale come fai a conciliare queste cose in modo da poter mandarle intanto mi permetto io non conosco la tua situazione però se il tuo investimento non è tornato e ne sei certo forse bisogna cambiare strada no? il discorso è che da quella che è la mia percezione se io mi dedicassi totalmente a questo progetto il progetto andrebbe molto meglio ok quindi è una percezione quindi io credo che la prima cosa da fare sia evitare le percezioni e cominciare a misurare certo è una cosa che io tra l'altro odio misurare quindi è una cosa che veramente trovo odiosa mi fanno schifo i numeri però nessuno è qui per per perdere tempo ecco diciamoci proprio la verità e quindi quello che io mi permetto di consigliarti prima di capire come portare avanti comincia a strutturare una modalità per far sì che tu possa capire che cosa ti porta questa cosa qua per esempio non so se tu questi videocorsi dove sono fisicamente ubicati su Kajabi quindi non hai la possibilità di cioè li tieni solo lì non ce li hai sul tuo sito non fai degli embedded diciamo lì è possibile avere accesso al videocorso poi sul mio sito invece ho dei contenuti delle videoserie gratuite rivolte alle persone che lavorano in sito rivolte alle casalinghe e con quelli che vengono sul tuo sito si devono registrare per poi dopo vedere le tue cose oppure no ho lasciato diciamo le videoserie libera ok e raccogli i dati di quelli che arrivano sul tuo sito per esempio attraverso il pixel di facebook queste sono cose che seguono diciamo in social media però sì ecco è probabile quindi io non lo so se quello che stai facendo è servito oppure no davvero faccio fatica a rispondere a questa domanda perché se tu fossi certo che quello che hai fatto non fosse servito ti direi lascia perdere io ti direi di organizzarti per poter misurare banalmente tutti quelli che passano su un sito web possono essere tracciati sì volevo usare una parola morbida logati tracciati diciamo attraverso il pixel di facebook su questo poi dopo tu che cosa puoi fare puoi andare a fare advertising questo l'abbiamo fatto se tu sei in grado di misurare questa tipologia di attività riesci perfettamente a capire quanto ho fatturato ti porta cioè io lo faccio così quanto ho fatturato mi porta quindi so quanto tempo e energia posso investire e anche addirittura cash quanto posso spendere in pubblicità quanto posso spendere in attività però certo molte volte uno vorrebbe tutto subito no ti vuole tempo tempo certe cose che non sono un acquisto di impulso il suo corso costa intorno a 300 euro che figo lo prendo quanto tempo potrebbe generare quanto tempo uno si dovrebbe aspettare per capire 15 giorni ma è poco 15 giorni è niente secondo me sotto l'anno si fa fatica ad avere ad avere dei risultati che siano in qualche modo tangibili e concreti siamo partiti ad agosto ok allora forse forse è un po' presto e poi è comunque per via della mia assenza in alcuni momenti dovuto alle attività che faccio abbiamo dovuto rallentare la domanda la faccio io che c'entri con un videocorso che è su una piattaforma online è tutto automatizzato perché tu vuoi fare il consulente offline anche sulle cose online secondo me no perché dovresti esserci adesso te la dico così perché sei un amico però no no perché un amico te l'avrei detto uguale ad esempio ora dopo che abbiamo lavorato molto su facebook ci stiamo spostando su google adwords e allora lì c'è tutto da impostare ma tu che ci fai perché parli sempre al plurale cioè comunque partecipo o lo farà lui tu fai a monte carlo allenare i videocorsi li fai tu li tieni tu sì 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 e allora farli in giro farli itineranti ma ha già fatto tutto è già tutto online cioè fanne altri fai qualcos'altro ecco grazie guarda Rudy veramente ti mando un bonifico domani perché la cosa che gli dico sempre gli ho detto Luigi ma tutte queste cose bellissime dove sono i video sono due anni che non fai più un bel video tuo di contenuti no ma sai perché io ci sto pensando contenuti prima facevano bellissimi che non fa più non ce li sta più facendo oggi abbiamo fatto un video per le donne in gravidanza dove c'è anche io dopo due una va bene la cosa Luigi grazie grazie ancora grazie a voi grazie tra un anno vediamo rock and roll allora Rudy c'è un'altra domanda della persona terza persona quarta persona doveva collegarsi ma deve essere che ha avuto problemi con la linea proprio visto che entrava usciva ed è l'artista che ti dicevo Luigi Cervone di Agrigento lui è di Napoli adesso vivo in Agrigento con la famiglia che fa delle cose che non sono belle sono bellissime sono andato a casa sua poi oltretutto mi ha anche regalato un quadro fa delle sculture che sembrano quadri e viceversa delle cose pazzesche io quando l'ho visto ho detto ma questo è un museo è una cosa bellissima allora gli ho detto ma queste cose le dovresti far vedere dice sì sì ma io faccio delle mostre ok le mostre d'accordo però magari è importante qualcosa ah ecco ce l'abbiamo fatto quindi lo invitiamo se l'ha scollegato lo invitiamo ce l'abbiamo online bene allora Luigi Cervone lui è il vice che stavo dicendo e quindi c'è un ritorno c'è un ritorno passati il tuo audio la domanda che stavo per leggere diceva anche perché io lo dico diciamo conoscendolo personalmente lui fa queste cose che sono bellissime dal lato probabilmente per la percezione che è solo sua e gli lo dico ogni volta tende a non fare il sito la pagina facebook anche a non dirlo in giro che è delle cose bellissime però ce li ha sono fantastiche cioè io dico se le persone vedessero e tutte le volte li faccio anche il caso devo dire che proprio dell'artista che forse ha avuto adesso Clapis che ha fatto milioni di followers facendo cose banalissime dopo due anni che aveva raggiunto milioni di followers ha detto ragazzi adesso ve lo dico io sono un artista e ha iniziato a far vedere le cose che faceva ha detto so bene che magari perdono un sacco di persone cosa che non è successo e ha venduto un sacco di soldi con l'arte allora le cose di Luigi secondo me sono molto più belle di quelle di Capris però c'è questo problema allora io ho detto prima anche lui si chiama Luigi ho detto all'altro Luigi Rudy Bandiera non è uno psicologo aiuta le persone nei social però chiaramente avendo a che fare con tanti imprenditori di svariate professioni facendo i corsi di formazione ha avuto una casistica enorme in tanti settori quindi Luigi Cervone qual è esattamente il tuo problema e vediamo se Bandiera ha dal cilindro una soluzione allora ciao Gian Mario ciao Rudy grazie per l'invito e per l'opportunità innanzitutto allora io ho fatto il collegamento sto facendo il collegamento direttamente con un'opera alle spalle riuscito a vederla ecco questo è un dettaglio si vede soltanto un dettaglio di un trittico che è alto due metri e venti ed è largo due metri e sessante ed è composto ecco grazie Gian Mario faccio vedere meglio ed è composto da tre tavole dipinte e un'installazione scultoria in ferro battuto ok il il discorso quindi è chiaro è evidente che un'opera di questo tipo non è assolutamente commerciale come la gran parte delle mie opere dei miei lavori non sono assolutamente commerciali no 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 c'è 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 ci sono devi mettere la sequenza il gioco delle tre carte allora è un omaggio alla mia napoletanità insomma di Gian Mario alla mia napoletanità comunque stavo dicendo io sono poi caratterialmente refrattario a qualsiasi forma di pubblicità perché mi sembra in qualche modo di svilire la dignità artistica delle opere perché diversamente poi da 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 io ritengo che l'opera debba venire prima dell'artista cioè l'artista sta dietro l'artista fa l'opera una volta fatta l'opera l'artista dovrebbe scomparire quindi diciamo che c'è una concezione filosofica di base che è completamente diversa allora posso farti una domanda che cos'è per te una domanda che cos'è per te arte beh arte credo che sia l'artista lo dico è la stessa cosa che deve essere l'arte è condivisione è quello che tu hai dentro tiri fuori e va a finire in qualcosa che dovrebbe emozionare allora non necessario allora io ho un'altra una definizione leggermente diversa perché l'arte non è comunicazione per me l'arte è condivisione presuppone la rilevanza dell'altro dell'interlocutore di colui verso il quale ci si dirige per questa condivisione invece nell'espressione artistica l'altro scompare il poeta quando scrive una poesia non sta pensando a quello che possono leggere gli altri della sua poesia semplicemente ha bisogno di esprimere quella quell'emozione la stessa cosa per il compositore non andrà a pensare quello che potrà suscitare negli altri di comporre per lui o Luigi però siccome tu hai fatto la domanda e stai intervenendo perché poi alla fine un modo o nell'altro lo vedi che ti piacerebbe farlo però sei limitato allora tu hai detto infatti allora adesso Rudy lascia stare l'opinione di Luigi ce l'ha detta dici invece come sarebbe bello farlo in un modo corretto che rispettare i valori che lui ha secondo me la condivisione in realtà non non presuppone il fatto che esista qualcuno che deve per forza ascoltare ma che esista qualcuno che potrebbe essere interessato ad ascoltare l'arte è esattamente questo se tu crei qualcosa allora io dico sempre sono quelli che scrivono e dicono ma io scrivo per me stesso se tu scrivi per te stesso scrivi su un foglio di word e te lo tieni a casa tua se lo metti su un libro sui social e da qualche altra parte non lo fai solo per te stesso lo fai per condividere qualcosa che hai dentro ed è straordinario ecco secondo me quello che tu fai che è una figata io non me ne intendo di arte ma sicuramente è una figata mentre c'è uno dei commenti che dicono ma fai delle cose bellissime ma che cazzo ma falle vedere visto che no perché svilisce ma non dice niente ma perché devi svilire allora se tu hai qualcosa dentro allora o te le tieni in casa tua non le fai vedere a nessuno e te le tieni per te allora mi va bene se no se le mostri dietro di te come in questo momento non vedo il perché non le debba mostrare agli altri anche perché è arricchente è bello sì allora io le mostre le mostre ti tolgo l'audio eh ti tolgo l'audio perché Rudy non ha finito ti tolgo l'audio allora visto che la tua è un'attività un'attività visuale io non dico che tu hai detto io non sono contro ogni forma di pubblicità anch'io ma qua non si parla di pubblicità qua ripeto si parla di condividere tu non stai dicendo nessuno compra tu stai dicendo io ho fatto questo è completamente diverso anche quando fai le mostre tu dici io ho fatto questo se qualcuno poi lo vuole comprare benissimo ma non c'è scritto sotto nei messaggi social compra il mio quadro compra la mia scultura cioè non è questo che devi fare tu devi mostrare quello che fai se troverai qualcuno con la sensibilità compatibile alla tua arte e adatto a quello che tu produci sarà lui a venire da te e chi è che si arricchisce in questo caso tutte e due è una figata e per questo te lo devi fare lo devi fare posso posso due parole Gian Mario mi prometto da quello che è stato ho seguito chiaramente con attenzione tutta la diretta e in effetti ho trovato forse conferma su un'idea che mi balenava in testa qualche tempo fa che potrebbe però rispondere a tutti i requisiti cioè io pensavo di fare dei video in cui io parlo delle mie opere come quando accade durante la mostra perché quando ci sono le mostre soprattutto le personali io ovviamente sono presente e quindi interagisco con le persone che fanno domande sulle opere e così via e quindi pensavo di fare una cosa di questo tipo come se rispondessi a delle domande per presentare insomma le mie opere e arricchire anche sia il mio sito internet perché il sito internet ce l'ho o anche la pagina è che non lo dico in giro per la verità insomma io l'ho appena rinnovato il sito e non lo sa nessuno a parte il webmaster che me l'ha fatto insomma allora secondo me è una cosa che è una strada che puoi seguire però ti dico la verità secondo me c'è un enorme però guarda ti prego di perdonarmi e di capire quello che ti sto dicendo è tutto disinteressato e io spero che tu abbia il successo che meriti però se tu parli delle tue opere c'è una sotto un sottofondo di ego riferimento ok certo per me potrebbe essere che tu visto che sei un artista e ti intendi d'arte potrebbe essere che tu cominci a fare dei video spiegando l'arte che la gente come me che non ne sa niente possa capire diventando quello che riesce a comunicare l'arte diventi anche il punto di riferimento di quelli che non necessariamente ne capiscono ma non solo allora dopo puoi anche cominciare a raccontare le tue opere per esempio in relazione a quello che senti tu oppure qualcosa che c'è già che esiste già cioè io non partirei se fossi in te raccontandole solo le mie opere ma farei qualcosa di un po' più ampio cioè racconterei l'arte all'interno della quale c'è la tua opera però è la competenza di altri professionisti insomma storici dell'arte critici no no storici cioè tu devi dire dal tuo punto di vista non è storico scarbi in quella categoria anche no quindi è meglio che ce lo spieghi no scarbi è uno storico scarbi è uno storico non sto parlando di storicità sto parlando di spiegare quello che cioè tu come l'hai fatta quella cosa lì dietro cioè avrai preso spunto da qualcosa da qualcuno avrai avuto delle ispirazioni oppure anche nella tua vita spiegare l'arte nella sua complessità al di là della tua opera singola è tutto strutturale adesso mi state chiedendo una cosa che è piuttosto complicata sì mi rendo perfettamente conto per me c'è spazio per una cosa del genere ti dico la verità devo dire che se lui partisse dallo spiegare l'arte a chi non la capisce io non la capisco punto quando ho visto le cose sue nella sua casa io ho detto intanto la percezione e l'emozione no perché io non la capisco ma l'emozione ce l'ho come credo tutti quindi se tu passi vedi un muro non ti dà nessuna emozione se passi da qualcosa che ti prende lo vuoi vedere lo vuoi quasi toccare lo vuoi capire chiedi ti ha dato un'emozione allora se c'è un'emozione intanto è un buon segnale allora se qualcuno mi spiegasse cosa c'è dietro come nasce ma io lo seguirei con l'attenzione perché è una cosa che non capisco io quando non capisco qualcosa io mi dà un po' fastidio la voglio capire quindi se qualcuno me lo spiegasse va bene se fosse Luigi sarebbe bello dopodiché tocca a Luigi farlo concordo in pieno va bene grazie ti abbiamo fregato è una cosa più difficile dell'universo però bisogna fare questo grazie Luigi grazie a voi qual è il tuo sito così poi magari qualcuno andrà luigiservone.com perfetto grazie grazie a voi grazie buona serata allora velocemente perché avevamo promesso al massimo 90 minuti li abbiamo anche superati a tre quindi velocemente al volo delle domande che sono arrivate secondo te sono utili i messaggi brevi e credibili piuttosto che tu l'hai detto prima insomma che non c'è una regola tu per te vanno bene i test altre immagini altri video ma sono meglio magari le cose brevi credibili perché molte volte dice come d'altronde hai detto prima no guarda vanno bene solo le immagini tutti lì i pecoroni che lo fanno no solo i test c'è una cosa che funziona realmente o magari uno dovrebbe fare vari tentativi e vedere quello che vari tentativi allora provali tutte ho 47 anni mi occupo di questo di mestiere dal 2006 2007 quindi è un bel po' di tempo che lo faccio non c'è stato un giorno giuro in cui non abbia fatto esperimenti giuro di ogni tipo perché oggi stai sperimentando questo target nuovo quindi lo viene così di ogni tipo il bello è che ci sono delle volte e questo è un problema mio che faccio talmente tanti esperimenti che arrivo a un certo punto che non so più quale ha funzionato e quale no perché mi trovo in un marasma sperimentale costante questo settore non sta fermo e non possiamo stare fermi neanche noi nel momento in cui troviamo un'alchimia che funziona usiamola ma stiamo già un passo avanti facciamo altre cose differenziamo tutto allora Anthony Laria che è un L'Aera che è un preparatore di sport di squadra anche lui è pugliese ma insomma adesso lavora nel a nord di Trento dove c'è anche mia figlia saluto che sta studiando online ormai perché le università sono chiuse ci dice caso suo ma così come di tanti altri quando ci sono i professionisti che non lavorano in proprio ma ovviamente fanno le call le position di altre aziende quindi hanno bisogno di magari avere una presenza online perché comunque possono acquisire nuove proposte di lavoro da aziende come si può costruire se esiste se è possibile se è consigliabile fare una cosa di questo tipo ma secondo me c'è sempre spazio per il personal branding cioè per mostrare quanto si è bravi nel proprio lavoro raccontando il proprio lavoro anche se si è dipendenti io quest'anno nel 2019 e il 2020 sono stato e sarò testimonial di Ranstad che è una delle più grosse aziende al mondo per quello che riguarda l'HR le risorse umane e loro hanno tantissimi tantissimi casi di individui all'interno di aziende che diventano i veicoli comunicativi delle aziende nelle aziende tecnologiche ce ne sono tantissime ma non solo quindi non vedo il perché qualcuno che lavora per un'azienda non possa costruire il proprio personal branding e diventare in parte veicolo dell'azienda e in parte un professionista o comunque un individuo apprestato per quello che fa quindi diciamo che il canale Linkedin si è un po' posizionato in quella nicchia lì ma effettivamente secondo te è più utile se vuoi per seguire questo obiettivo stare solo su Linkedin o comunque anche altri canali allora Linkedin secondo me è in questo momento il canale che funziona di più in assoluto si fanno numeri veramente alti o nella misura in cui creiamo contenuto tutti i giorni per molto tempo che sia utile a qualcuno mi raccomando ed è un canale veramente potente io personalmente oltre il 50% del fatturato circa il 50% del mio fatturato all'anno arriva da Linkedin io non ho commerciali non ho strutture di nessun tipo e faccio inbound puro e quindi secondo me funziona tantissimo però dipende da quello che si fa Linkedin è estremamente professionale e professionalizzante quindi bisogna parlare solo di una determinata cosa che è il nostro lavoro e parlarne con determinati termini però non è che mi chiudo per esempio in ogni caso altre strade uso anche Twitter anche Instagram e anche Facebook con linguaggi completamente diversi quindi bisogna secondo me cercare di capire qual è il canale migliore dove sono i nostri potenziali clienti e usare quello Alessandro Esposito è un personal trainer da Napoli ha uno studio di un professionista molto noto ce l'ha uno studio fisico da 18 anni e dice ma secondo te ha senso è utile potrebbe essere un vantaggio uno svantaggio adesso vabbè certo c'è l'emergenza ma un domani anche aggiungere la consulenza online allora la consulenza online è una cosa che a me non piace però che funziona sempre di più e credo che con i tempi che corrono non perché dovrà esserci virus continuamente ma perché il tempo è sempre meno l'inquinamento è sempre di più e quindi non vedo il perché dobbiamo continuare a spostarci per cose che possono essere fatte online quindi dal mio punto di vista ripeto io non lo faccio perché non mi piace io voglio la fisicità però penso che sia una cosa da poter pensare molto seriamente sì assolutamente sì al volo altre due della Academy poi forse c'è una al volo che ti posso fare allora canale YouTube qual è secondo te se esiste una direzione per YouTube nel senso un trend lui fa dei contenuti evidence based cioè sempre basati su evidenze e così via lui è un Francesco Trebbi è un tecnico di ciclismo conviene poi investire in altre cose tipo fare eventi dal vivo o itineranti andare magari a fare dei video in esterna fare qualcosa di più da news YouTube secondo me ha come kernel come nucleo centrale la search cioè è un motore di ricerca YouTube sostanzialmente e quindi funziona tantissimo sulle chiavi di ricerca non è un social come Facebook che ha una timeline che ti scorre davanti su YouTube ci vai quando cerchi qualcosa esattamente come Google e quindi i contenuti che bisogna fare su YouTube devono essere il più possibile search oriented orientati verso la ricerca per fare questo bisogna andare su Google Trends o usare un'attività di crawling come ho detto prima e capire che cosa cerca la gente riferimento a una determinata chiave avete tutti presente Aranzulla Aranzulla ha fatto un'attività esattamente di questo tipo search oriented cioè ha dato delle risposte a domande che già c'erano quindi YouTube secondo me va utilizzato in questo modo poi il discorso per esempio delle riprese sul campo e cose di questo genere assolutamente sì ma non è tanto un problema di contenuto è un problema di di che titoli diamo e di che di che tipologia di descrizione diamo che tag utilizziamo per poter essere in qualche modo più evocativi possibile verso la ricerca ecco all'ultima domanda dell'accademy Alex Baldacini che è un fisioterapista e dice tele-riabilitazione quindi comunque lui chiaramente lavora sulla riabilitazione come far percepire al paziente il valore aggiunto che gli puoi dare considerando che ovviamente nell'immaginario collettivo il fisioterapista è una professione one to one come fai purtroppo io temo che qua e mi dispiace concludere con questa cosa o andare verso concludere no no te ne faccio un'altra più facile dopo dai ti spiego c'è un enorme problema culturale cioè sembra che quello che viene fatto in questo modo sia una cagata che possiamo fare tutti scusate la parolaccia ma questa qui è una cosa che dai è una stupidaggine riesco anch'io posso farlo anch'io quindi si fa fatica a passare il valore che c'è in una cosa a distanza per esempio attraverso internet attraverso i social eccetera in realtà temo sia un enorme problema culturale bisogna tentare di dirigirla la frittata cioè bisogna far capire che la professionalità è la stessa identica con dei quid aggiuntivi anziché minoritari cioè si risparmia tempo si risparmia energia si risparmia soldi di spostamento si respira meno meno PM10 e si può avere un'attività approfondita e straordinariamente professionale uguale ora su questo ti dico una cosa che è nota perché proprio degli ultimi due mesi noi in Italia siamo bravi a fare questi casini fine dicembre l'ex ministro dell'università ricerca a Fieramonti il giorno prima di dare le dimissioni emana un decreto dove vieta che le università online possano continuare da questo prossimo corso di laurea dal 2020 al 2021 una serie di corsi che sono psicologia biologia eccetera perché si dice le università online non possono perché non c'è valore non c'è cosa e quindi lo dovranno fare finito punto e quindi passa il decreto che ovviamente deve essere convertito entro 60 giorni nel mentre succede un casino quindi che succede è che tutte le università online cioè tutte le università normali offline sono state obbligate a fare i corsi online quindi 15 giorni fa che quel decreto doveva essere convertito in legge qualcuno ha detto ma che stiamo facendo stiamo facendo diventare legge dove vietiamo le università online di fare i corsi di laurea però abbiamo nel mentre autorizzato tutti gli altri a fare l'online di fatto obbligato tutti gli altri e quindi l'hanno ritirato e quella lì non è più legge la cosa bella e brutta da un lato che le università online e sono tante non tutte eccellenti ma alcune veramente ben organizzate hanno una qualità di contenuti esemplare perché i professori sono abituati a fare i video le aula le slide eccetera non sbagliano perché è tutto registrato sai bene che poi i ragazzi si manderebbero i video in giro se ci fosse un errore ed è una qualità altissima le università tradizionali adesso stanno rincorrendo con quello che possono quindi io vedo insomma perché mia figlia studia persone che conosco eccetera quindi qualcuno mi manda le cose e quindi chi fa degli audio chi fa dei video fatti un po' così chi ancora non li fa manda le slide cioè sono tutti ognuno va un po' per sé e purtroppo cosa succede nel pratico che molti studenti universitari che sono stati un po' formattati con il fatto di dire ah no ma quella è l'università seria quella lì quelle online no dice boh forse non è proprio così perché a quel punto alcuni professori vedo che sono in difficoltà di comunicazione e questa cosa anche perché il decreto che non so se è uscito nel mentre stiamo parlando uscirà sposterà i corsi di laurea imporrà anche all'università di fare anche gli esami online i corsi di online cioè una cosa che andrà avanti per molto molto tempo e quindi l'online credo che anche nella percezione comune prenderà un valore importante questo forse questo virus bravo la generazione io vedo questo perché lo vedo con le opinioni che conosco che avevano un po' la spocchia prima di quelli che studiavano i corsi online erano un po' di sfigatelli quelli che facevano fisici io dicevo ragazzi io li ho fatti quei percorsi conosco uno e l'altro ma sinceramente non la vedo così però ok era la mia percezione adesso vedo che le persone hanno detto eh porca miseria però l'online è serio come l'altro visto che ormai è legge e le università la devono fare questa cosa la vedo che cambia non so se a te è arrivato questo messaggio ma io vedo se questa tragedia ci insegnerà qualcosa credo sia proprio questo speriamo che ci porti qualcosa di buono oltre questo che insomma però allora ah ecco giusto un'altra domanda Alessandra che dice prima della cosa che hai detto prima giustamente per chi vuole farsi il suo profilo LinkedIn anche in prospettiva di fare un salto di qualità una carriera eccetera però molti sono dipendenti e quindi in quel caso come si fa no? perché cioè se il tuo dipendente si fa la sua pagina e si fa e dici ma là te ne stai andando com'è? magari ti vedono male no 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 capisco perfettamente la domanda ma non è vero che cioè se io sono il dipendente di un'azienda X apro il mio profilo LinkedIn e sul mio profilo LinkedIn prendo delle notizie riguardanti il mio settore e le commento per esempio ho detto la cosa più banale che mi avete in mente non vuol dire che me ne sto andando al mio lavoro vuol dire che mi appassiono al mio lavoro che mi interessa al mio lavoro quindi secondo me assolutamente non è un limite c'è un consiglio che mi sento di dare su LinkedIn spesso noi apriamo LinkedIn e poi stiamo i sei mesi a cercare di strutturare il nostro curriculum la nostra pagina il nostro profilo perché sia figo e poi basta non ci facciamo più niente ecco così non serve serve nella misura in cui creiamo del contenuto se lo facciamo come un bel curriculum online facciamo meno di farlo non serve a nulla quindi tu non vedresti male se magari una persona magari dipendente di un'azienda comunque mettesse come la disposizione ulteriormente dei suoi contenuti su LinkedIn citando che dipendente di quell'azienda sarebbe corretto inattaccabile io per esempio Microsoft che è un'azienda che conosciamo tutti conosco tantissimi dipendenti che fanno un'attività di questo tipo hanno scritto qualcosa Microsoft nel header del loro LinkedIn che si vede ogni volta che loro scrivono e commentano cose tecnologiche che vengono da più parti del mondo in maniera assennata perché comunque sono del settore ho detto Microsoft perché ne vedo veramente tanti ma di tutte le aziende ce ne sono e non ci vedo assolutamente niente di strano anzi quindi magari anche farsela autorizzare se uno ha questi problemi dice vai dal tuo capo e dici guarda io voglio fare questa cosa hai qualcosa a incontrare ma ne una mail cioè che dici una mail oppure dici no non chiedere tanto allora se se io lavoro in un'azienda che fa non mi viene neanche in mente che cosa televisori per capirci e tutti i giorni prendo delle notizie che arrivano in giro per il mondo nel mio ambito e le commento senza necessariamente parlare bene o male ma le commento non vedo che cosa ci possa essere di strano se poi avete dei rapporti particolarmente duri con i vostri superiori allora forse è meglio parlarne ma non si tratta di parlare di quello che si fa in azienda si tratta di parlare del settore di cui tratta l'azienda non ci vedo niente di male ho un caro amico che vende plotter per un'azienda e fa esattamente questo parla di plotter su LinkedIn che è un argomento di cui a me non frega niente ma lui ha la sua nicchia e vende fantastico allora ringrazio tutti i membri della Sports Science Academy perdonate se qualcuno perché purtroppo mi devo mettere gli occhiali perché sono anziano non vedo quindi qualcosa mi sarà sfuggita grazie anche con le persone che si sono collegate però l'ultima cosa il take home message come si fa nelle ricerche scientifiche il messaggio da portare a casa vorrei che fosse insomma di Rudy perché lui chiaramente ha a cuore conosce il mercato eccetera ha inquadrato un po' qual è il mondo dove e quale su questa pagina e vorrei che qualcosa un bel suggerimento ce lo desse lui in modo che insomma ce lo portiamo veramente a casa per stasera allora ragazzi ci lasciamo con questa promessa da oggi in poi voi create un contenuto al giorno sui vostri social su LinkedIn per esempio un contenuto al giorno per i prossimi 6-8 mesi se lo fate tutti i giorni e riuscite a trovare qualcosa di utile da fare tutti i giorni per i prossimi 6-8 mesi tra 6-8 mesi vi garantisco che avrete dei risultati però basta che lo facciate sul serio quindi ci dove sei andato? no proprio sul finale io non so se voi mi vedete mi leggete mi sentite? mi senti? ok no allora però il messaggio aspetta un attimo perfetto il messaggio lo ridai perché è andata via la connessione in quel momento il tuo video era perfetto prima però 6-8 mesi vi garantisco vi garantisco vi garantisco che se riuscite a fare dei contenuti utili per il vostro pubblico per i prossimi 6-8 mesi una volta al giorno sul vostro social preferito che appogliamo sia LinkedIn perché stiamo parlando di business otterrete dei risultati tutti quelli che l'hanno fatto e che hanno seguito questo consiglio hanno ottenuto dei risultati il problema è riuscirete a fare 6-8 mesi di contenuti tutti i giorni utili per il vostro pubblico se ce la fate sfondate guarda io sinceramente ne conosco veramente pochi di tutti questi tutti quelli che in tanti anni questi anni mi hanno contattato eccetera e hanno visto magari quello che ho fatto io e io ho visto tante persone che come dire se lo devo fare come metafora dello sport volevano fare la maratona ma dopo i primi 3-4 chilometri frustrati la tantezza si sono ritirati capisco lo capisco però così non funziona purtroppo e infatti se vai a vedere le statistiche partono in 100.000 la maratona di New York e dici ma e quindi no arrivano l'8% i numeri non sono questi ma comunque purtroppo perché tanti poi non c'è l'impegno pensano che a volte sia inutile no? bisogna bisogna farsi un mazzo il tempo anche il tempo dell'impegno il tempo dell'impegno perché si ritiene forse nella percezione sbagliata che quello che facciamo anche oggi noi no? non è un lavoro mettiamo una così una cosa che fa nel tempo libero no ma per me così come per Rudy fa parte del lavoro oggi abbiamo fatto una diretta di ormai 100 minuti che però è bellissimo ma la devo andare a rivedere perché molte cose che hai detto io me le devo riguardare con calma mentre che leggevo eccetera me le devo guardare ed è infatti ti ringrazio veramente tanto è stato un bravissimo professionista il libro Mondadori condividi e ti impera giusto? esatto però mi sembra che ci sono altri libri tuoi ne ho scritti quattro ma la gente trova il nome nome e cognome su google e va dove vuole ecco quindi tutte queste tematiche che riguardano come poi approcciare a questo mondo e io il messaggio che vi voglio dire poi non so se Rudy lo condivide non fatevi neanche tanto affascinare dai numeroni questo l'abbiamo detto ma non pensate che sia tardi lui dice no ma sei ormai è saturo eh no ma quello è saturo che aspetto che lancino il nuovo social media io dico ragazzi non è non è tardi per niente vi faccio un esempio che forse magari anche Rudy lo conoscerà c'è un geologo che è iniziato ma sarà tre quattro mesi fa a iniziare a fare i video si chiama geologia pop adesso lo volevo anche contattare che è partito in niente dice ma ormai video allora iniziata a fare i video fatti veramente bene dove spiega i terremoti spiega le cose spiega il gas che sono argomenti che dici ma chi se lo fila no ha usato un modo di comunicare trasparente facile parole facile è ovvio che le persone sono interessate ha fatto il boom ha preso più di centomila persone nell'arco di tre mesi ed è una cosa incredibile quindi ci sono tanti aree e poi magari anche se ce ne sono cento di quell'argomento che vuol dire magari voi iniziate con qualcosa che è più interessante e fatta meglio degli altri quindi io dico a tutti fatelo però con suggerimento di Rudy siete disposti a farlo con quella gocciolina fatto contenuti seri se siete disposti allora ci vediamo insieme io Rudy e te tra otto mesi e ci farai vedere quello che hai fatto non so se la pensi anche tu così assolutamente vuoto ogni parola grazie grazie a tutti grazie Rudy Bandiera seguitelo sui suoi canali social e sul sito perché è veramente un grande professionista grazie a tutti per essere stati con me grazie ciao ciao